buongiorno a tutti adesso qualche attimo per poter far partire la nostra è fantastico sono velocissimi molto bene c'è una luce accecante ma vediamo di riuscire a sopperire a questa cosa mi metto di qua oppure di là perché mi dicono che la luce è meno fantastico benissimo e non impallo neanche tra l'altro i video benissimo allora oggi è praticamente l'ora della merenda e noi parleremo di colazione quindi vedete come insomma riusciamo a creare degli impatti particolari stravolgendo le regole perché bisogna pensare fuori dalla scatola bisogna ragionare analizzando ovviamente con il neuromarketing come luca vescovi ci raccontava analizzando facendo benchmarking con benchmarking con i competitor bisogna analizzare come si fa come fanno gli altri poi comunque essere anche stupire avere la capacità di stupire e di fare qualcosa di inaspettato e cercheremo di farlo e di raccontarlo sia con le immagini che con il digitale con tutte le sue opportunità mi ha presentato amabilmente la nostra gentile ospite meri che ringrazio e mi occupo pardon e come sì qui qualche ricciolo fa effettivamente sì mi hanno anche detto aggiorna il profilo però aspettavo tutti se i selfie e tutte le foto che mi farete voi per trovare la migliore anche io faccio il concorso la miglior foto poi la pubblichiamo come mio profilo anche qui vi ho stupiti e mi occupo di hotellerie e di ristorazione quindi due aspetti che sono in qualche maniera il sole la luna lo yin e lo yang della nostra accoglienza e laddove delle terre come quelle del sud come quelle pugliesi riescono a dare sicuramente al meglio di sé anche attraverso determinati elementi oggi questo è il mio terzo intervento oggi sto cercando di battere il guinness dei primati del numero di chilometri e del numero di speech che riesco a fare in 24 ore sono partita alle 20 con un treno intercity notte da torino riparto alle 20 con l'intercity notte di questa sera e quindi cerchiamo insieme di raggiungere questo questo record benissimo ecco a noi uno degli dei cuori degli elementi secondo me più importanti di ogni incontro che cerco di fare con gli operatori con i territori cioè quello di fare qualcosa di partecipato di dialettico quindi non una persona frontale non uno sul palco e l'altro sotto ma qualcosa che si fa insieme quindi vi invito se vi va se riuscite soprattutto attraverso twitter o instagram utilizzando la hashtag btm puglia 2018 che è l'hashtag ufficiale dell'evento no benissimo mi correggono immediatamente mi bacchettano che invece è btm io ci ho aggiunto giusto perché abbundare è meglio che edificere allora btm 2018 l'hashtag di questo evento è colazione digitale se menzionate almeno il btm puglia la mention è giusta sì almeno quella l'abbiamo azzeccata e quindi possiamo procedere at muse.com se vi va di cosa parliamo oggi di quattro punti fondamentalmente ci occuperemo quindi di colazione digitale qualche dato perché non guastano visual marketing quindi marketing visuale e neuro marketing vedete che il fil rouge in qualche maniera è proprio quello scoprire come essere persuasivi avvincenti affascinanti attraverso la psicologia cognitiva la psicologia percettiva colazione digitale qualche consiglio qualche influencer che ci ha lasciato la propria testimonianza e poi colazione offline qualche pratica a fine evento poi lancio qualche provocazione qualche idea per il prossimo anno perché magari il prossimo anno potremo fare la colazione all'ora della colazione magari con qualche food blogger o con qualche merchandiser che preparano il banchetto un po come come noi in qualche maniera lo andiamo a raccontare partirei con un video che è il video insomma velocissimo che penso tutti conosciate conosciate scusate sono piemontese quindi abbiamo qualche difficoltà con la sc è il video che racconta lo zeitgeist del 2017 quindi sicuramente l'avete già visto e come google attraverso le immagini le immagini in movimento ci va a raccontare un anno e un anno che viene raccontato attraverso questo è stato un anno per il video che è stato molto importante To the families and friends of the victims, know that we'll do everything we can. We are Vega Strong. We will not be silenced. We will not be silenced. No matter what we're going through, we still have to push forward. Are you ready to shake up the world? Hell yeah! It takes an act of love to realize we are all in this together. He has all we have made history tonight. Look at that! We're all done! It's emotional! I can't explain why, but it is! I'm asking that you guys join and mobilize with me. I will say it right now out loud. Me too. Me too. Me too. Me too. Me too. Make sure you're gonna shake it bro. The things that make us different. Those are our super powers. Go out there and conquer the world. perché il mondo non sarebbe così bello come è se non eravamo in noi. Quella cosa, tutti gli anni viene fatto, tutti gli anni viene lanciato all'inizio dell'anno, la cosa che è emozionante è che in qualche maniera questo video non è una serie di immagini apparse online che Google seleziona, no viene dal basso perché sono le parole chiave, sono i percorsi che l'utente fa e che sotto il profilo numerico, sotto il profilo statistico sono le parole più cercate, ma non solo le parole più cercate, anche i gesti più cercati, avete visto l'unico elemento del cibo che è venuto fuori è stato questo, quindi quello di Salt Bay che è questo cuoco di cucina argentina che è famosissimo a New York e che ha questo particolare modo di salare che ha, diciamo così, contagiato addirittura lo sport, il mondo dello spettacolo, della musica, eccetera. Fondamentalmente è importante perché parte dal basso, è importante perché sono le cose che cerchiamo noi con il sistema e il modo a cui siamo abbezzi o comunque che stiamo utilizzando noi. Modo, per esempio, che emerge spudoratamente, che emerge in maniera vistosa, che è il cercare ormai per how to do, come fare questa cosa, come ottenere quell'altra. Sempre di più le nostre ricerche sono come poter realizzare, raggiungere quell'obiettivo, fare quella cosa. Quindi ci racconta tantissimo dei nostri utenti, con due minuti e mezzo di video noi capiamo, comprendiamo tantissime cose che ci vengono appunto trasmesse, rilasciate appunto dallo stesso Google. In qualche maniera comprendiamo anche che le persone hanno bisogno di superare gli stereotipi, di andare al di là del semplice appunto classico o la classica visione che hanno di un luogo, di un posto, di un'accoglienza, per andare oltre, per tramutarla in quella che può essere effettivamente un'esperienza autentica, che è un po' il percorso che noi dobbiamo in qualche maniera andare a fare. E soprattutto una cosa che comprendiamo moltissimo è che dalla colazione, dal food in qualche maniera, noi riusciamo ad ottenere il maggior numero di recensioni, nel quale appunto è presente la parola food, la parola colazione, l'elemento cibo, l'elemento food and beverage, ok? E soprattutto è quel elemento trainante, ce lo racconta anche un bellissimo report di Booking.com, che è del 2017, relativo ai dati del 2016, che ci fa capire come il food sia l'elemento scatenante, il volano, la testa d'ariete per ottenere un sentiment positivo, sempre più diffuso, sempre più importante, sempre più elevato. Quindi la colazione muove, la colazione attira, la colazione è importante. So che per l'albergatore la colazione è ritenuta e valutata, è considerata una voce di costo. Sì, gliela devo dare, è inclusa nella camera, quindi la devo fare, però certamente sempre con un occhio di riguardo a quelli che sono le leggi, le regole, e gli spunti del revenue, che sono appunto l'analisi del food cost, quindi un'analisi, un controllo della gestione sotto il profilo anche del food, sicuramente, però è un servizio al quale vale la pena, proprio per la sua grande funzione di traino, vale la pena dedicarsi con attenzione. Sì, perché il nostro utente è sempre così, perennemente. L'utente è in centro alla scena, sta mangiando, ma nel contempo si sta facendo un selfie con lo stick selfie, collegato tra l'altro qui a un cucchiaio, vabbè, ma lasciamo perdere gli eccessi. L'utente è così, ci sono 6 miliardi di dispositivi, di telefonini, di smartphone, e soltanto, mi spiace, c'è un po' tanta luce, non si vede molto bene, comunque 3.5 miliardi di spazzolini da denti con cui inettarsi, pulirsi, farsi igiene orale dopo aver mangiato la nostra colazione. Quindi, insomma, in qualche maniera forse vale la pena, cioè magari non investire spazzolini da denti, ma capire che, insomma, bisogna ragionare, lavorare e darsi da fare con la promozione della nostra colazione. Anche perché, insomma, noi abbiamo dei dati, dei risultati che sono sorprendenti. Oltre al numero strepitoso di dispositivi mobili, un altro dato importante, qui Ericsson, che non fa più molto bene i telefonini, ma fa bene i report e le analisi, ci dice che entro il 2020 70 su 100 possiederanno uno smartphone. Quindi non è solo che Nicoletta ha 4 smartphone e non ne ha nessuno, no? Non è così, è che tutti effettivamente 70 su 100 avranno almeno un dispositivo non in borsa, non in tasca, in mano, ormai in mano, quindi propensione, appendice di noi stessi. Ma non solo. Prendiamo spunto dal Trip Barometer di dicembre 2015. Non è aggiornatissimo, ma comunque è importante, ed è l'ultimo dato relativo a questo. Allora, i fattori di selezione, secondo TripAdvisor, sono nazionale, quindi turisti interni, e mondiale, quindi tutti i turisti sempre rispetto all'Italia, quindi alle strutture italiane. Ci dicono, al primo posto, il 56% dice assolutamente la colazione. Secondo l'aria condizionata, è comunque un elemento importante anche per territori quali il nostro, quali quello che stiamo considerando, il 48% è la wifi. Mentre prima tutti dicevano la wifi, no, attenzione, la colazione. La colazione sta diventando un elemento imprescindibile. A livello mondiale, quindi non solo Italia, abbiamo ancora l'aria condizionata, che comunque è un optional importante, ritenuto un elemento determinante, wifi e colazione. Comunque sono numeri strepitosi che ci devono fare riflettere, che ci devono far pensare. Altri report interessantissimi sono quello di Booking.com, che fa riferimento però appunto al 2016. Quindi, purtroppo, ci va sempre qualche periodo, qualche annetto, diciamo così, per riuscire ad elaborare i dati, ma in questo caso abbiamo un'interessantissima relazione che ci indica chiaramente come il cibo sia un elemento fondamentale. Il cibo, e parliamo di alberghi, di hotel, quindi non di ristoranti, non della parte del ristorante, perché Booking, anche se sta vendendo altro, però principalmente per l'Italia vende lenzuoli e cuscini. Ok, ci siamo. Quindi, Booking.com ci dice, attenzione ragazzi, che il food è diventato fondamentale per le scelte. Addirittura dice, facciamo una analisi in base alle mete più predilette, in qualche maniera. Ne escono fuori comunque in evidenza molte città, Milano per esempio, complice il 2015 sicuramente, Firenze, la classica destinazione ritenuta una metà gastronomica gourmand, aprirei un grandissimo capitolo sul rapporto per esempio tra la cucina toscana e quella pugliese, piuttosto che la cucina toscana e quella abruzzese, quella piemontese, ma non siamo in gara, anzi, siamo qua per imparare l'uno dall'altro. E comunque ci dice, no, guardate, Milano, poi vabbè c'è Roma, perché Roma è una destinazione, però queste sono mete importanti. non siamo i primi posti, perché prima di noi ci sono Cina, Giappone, Hong Kong, ci sono altre destinazioni, Thailandia, ok, quindi non siamo gli unici a avere una grande tradizione culinaria che può trainare il nostro turismo, non siamo gli unici. Quindi dobbiamo combattere, diciamo così, con dei competitor che sono ampi, che sono diversi, quindi non nascondiamoci, ha un atteggiamento arrogante e anche un po' presuntuoso, noi in cucina siamo i migliori, sì, vabbè, può anche essere, però lo dobbiamo dimostrare, lo dobbiamo raccontare, dobbiamo saper fare in modo che da prima nazione desiderata da tutto il mondo, io voglio andare dove? No, in Italia. Noi siamo soltanto quinta nazione in quanto ha destinazioni, ha flusso turistico, quindi c'è qualcosa che non va, quindi dobbiamo in qualche misura cercare di compensare. Come? Utilizzando il food sicuramente, perché il food è un veicolo, è un portatore sano di valori, di principi, di messaggi commerciali, di racconto della nostra offerta. Quindi veramente dobbiamo utilizzare sicuramente questo elemento. Come? Io vi suggerisco alcune mosse strategiche che secondo me sono interessanti. Conoscete questo personaggio? Soprattutto le ragazze, insomma, sicuramente identificano Deep, Johnny Depp, scusatemi, e soprattutto il fatto che questo è Tim Burton, quindi un film di Tim Burton, che ci richiama al concetto del rasoio, inesorabile. Quindi il mio consiglio qual è? Utilizzate il principio del rasoio di Ockham. Ockham lo conoscete, sapete chi è? Era un monaco del 1400, inglese, e lui aveva elaborato un principio modernissimo, che era un metodo di lavoro scientifico nell'approccio di ogni singola task, di ogni semplice approccio al lavoro e alla ricerca. Praticamente sostenevo una cosa banale e semplicissima. Se io devo risolvere una questione, molto probabilmente la via più corretta e la via più economica per me è la soluzione più semplice, la soluzione più elementare. Quindi non aggiungiamo tante cose, tanti elementi, tante soluzioni, ma pensiamola facile. Keep it simple, ci insegnano i marketer americani, ma non dobbiamo imparare dall'America, ma semplicemente dalla nostra cultura europea, per esempio. Quindi togliamo con dei taglinetti di rasoio tutte le cose che sono inutili, tutti i fronzoli, tutte le cose che non servono, tutte le cose che sono in più. Lo diceva anche prima Luca, soprattutto quando parlava di content marketing funzionale. Le sismore, un altro tormentone che è estremamente efficace. TLDR, too long didn't read, una roba troppo lunga, non la legge nessuno, ed è vero. Ecco, quindi ispiriamoci a queste cose, magari pensando al concetto del rasoio di Ockham. C'è un'altra bellissima legge, che è una legge proprio della fisica, se vogliamo, comunque una legge importantissima, la legge di Hicks, non so se lo conoscete, è un'altra legge che dice, soprattutto applicato alla interfaccia utente. Allora, se tu devi far compiere un'azione a un utente, a un lettore, ed si applica, si sposa perfettamente anche con il web, se tu devi far compiere un'azione ad un utente, più elementi, più soluzioni gli metti di fronte, meno rapidamente farà una scelta, e soprattutto, molto probabilmente, sarà talmente confuso da abbandonare e andare da qualche altra parte. Quello che diceva Luca Vescovi prima, cioè, se io non riesco a caricare una cosa, a capire come muovermi nella interfaccia del sito, nell'architettura dei contenuti del sito web del mio hotel, allora probabilmente me ne vado rimbalzo, e quindi aumento l'indice di rimbalzo, andando a vedere su Google Analytics, trovereste dei bounce rate sempre più alti. Quindi, anche lì c'è qualcosa che appunto deve essere corretta. Altro metodo che io vi consiglio, design thinking. È una metodologia elaborata appunto in Università Stanford, che è semplicemente, soprattutto utilizzata negli staff di designer, quindi di progettisti, sia web, sia non web, anche di interior e di altre cose. Qual è la logica principale di questo approccio? La logica è di pensare, ascoltando i bisogni dell'interlocutore, creando uno staff creativo, lo staff dell'hotel, la brigata di cucina, la brigata di sala, soprattutto quelli che hanno l'interfaccia con il cliente, che quindi sentono, percepiscono, conoscono i bisogni, le esigenze, i percorsi, ok? E che quindi tutti insieme possono trovare la soluzione. Occhio che la creatività, quello che si dice pensare fuori dalla scatola, conoscere cosa fanno gli altri, conoscere quali sono, anche sotto il profilo del test, e poi creare qualcosa di inaspettato e soprattutto di creato dallo staff, creato dal gruppo. Fare rete all'interno dell'azienda e anche tra aziende è, lo so che è un sogno spesso utopico, però è la soluzione. Penso l'unica soluzione. Quindi design thinking, pensare in questo modo, in modo progettuale e in modo collettivo. Poi il neuromarketing, anche qua un altro elemento strepitoso, un altro elemento impossibile. Bisognerebbe anche qua parlare per dei mesi, per delle ore, ma vi basti una cosa. Con il food, che cosa scateniamo? Sia visualmente, sia come visual, sia poi come sensazioni, come profumi, quanti elementi abbiamo, quante armi, quanti frecce nel nostro arco abbiamo con la colazione. Scateniamo la dopamina, che per quello che dicono che il cibo e il sesso sono in stretta correlazione, perché spesso, anche con l'odore e con l'olfatto, perché spesso appunto questo rilascio di dopamina dà questa sensazione di piacevolezza. Se io al mattino li sveglio con il profumo, con il gusto e il sapore dei pasticciotti, con l'angolo salato, con le focacce, con queste cose, ma quanti non offrono le bontà del territorio per il fatto che magari dicono, vabbè, ma tanto si aspettano il croissant e diamogli il solde in l'ordre, vogliono il croissant e diamogli il croissant, ma noi il croissant ce lo mangiamo tutti i giorni, non ne possiamo più di croissant. Quando veniamo qua vogliamo mangiarci il pasticciotto, magari una volta alla settimana, perché se no il fegato reclama, ma ci vogliamo assaggiare il formaggio tipico, abbinato al pane appena cotto al forno. Ecco, queste cose, quindi tac, dopamina, sensazione di piacevolezza e poi gli potete fare tutto quello che volete e loro in qualche maniera, insomma, vi assicuro che non protesteranno. Quindi, sia sotto il profilo dell'allestimento del banco, del desk della colazione, sia poi come narrarlo questa colazione, devo fare attenzione a alcuni elementi che sono poi quelli che, gli ingredienti che vanno a colpire e a stendere, inchiodare al muro il nostro ospite. Li dobbiamo lasciare veramente senza parole. Il primo giorno, quando arrivano qua, come sono i nostri clienti? Isterici, nervosi, con la faccia arrabbiata, cioè il primo giorno può succedere di tutto, può succedere di tutto anche se li coccoli come non so. Dobbiamo prenderli per la gola, veramente, e convincerli, farli rilassare, perché botte di dopamina, gli dobbiamo far usci botte di dopamina, perché veramente loro poi saranno più rilassati e potranno godere veramente dell'esperienza e delle sensazioni, dell'esperienza che voi potete far vivere loro. Quindi, sia nel colore che nella scelta del menu, che nella scelta del progetto dell'esperienza, UX experience, quindi la user experience, il progetto di quell'esperienza lì, che deve essere sia lì quando trova le cose al posto giusto a colazione, quando segue i profumi, sia online dove queste cose non possiamo che evocarle. Perché ancora, anche se Luca è bravissimo e fa delle miraviglie, però ancora non riesce a far sentire i profumi e gli aromi e i gusti per il momento attraverso il web. Molto spesso abbiamo pochissimo tempo a nostra disposizione, cioè di solito una manciata di secondi, una manciata di minuti. Per esempio, online, noi abbiamo veramente poco tempo. Se un'immagine non si carica, una bellissima immagine di una colazione strepitosa, sì, la voglio, li voglio scegliere proprio per, ma se io non riesco a vederla, perché questa immagine è talmente pesante, non ho equilibrato, non ho calibrato la risoluzione, quindi una buona risoluzione, con un peso accettabile, e non si carica in tre secondi. La regola del tre secondi crea immancabilmente un rimbalzo, quindi non c'è verso, anche lì. In 60 secondi succede di tutto. Io mi devo infilare qua, in 448.800 tweet al minuto, 65.972 post su Instagram, 3.8 milioni di Google search, cioè io mi devo infilare lì in mezzo. Quindi i miei competitor sono un pochino più ampi, sono veramente complessi da gestire. E quindi come? Inventandomi delle cose. Per esempio, creando un piccolo menù. Lo so che la colazione è lì, che non ho tempo da perdere, che è già un costo, però magari creare un piccolo menù, un piccolo percorso, magari non come nel pranzo, quindi con un vero e proprio menù, che tra l'altro è uno strumento importante, perché ricerche recenti ci testimoniano che tengono in mano tra i 109 e i 120 secondi un menù. Quindi può essere uno strumento veramente interessante. Può essere una soluzione, quindi proporre un menù, oppure può essere una soluzione, lavorare con dei percorsi, creare proprio dei percorsi del gusto, con dei cartelli adeguati. Anche lì cartello è costoso, perdo tempo a scriverlo, sì. Però quanto vi risparmia poi in tempo, in confusione? No, ma questa roba non è quella che volevo, te la abbandonano nel piatto, mezza mangiata, mezza mangiucchiata. Quindi la cartellonistica, che poi vi aiuta anche a fare branding, no? Usate anche i tent, i piccoli menù tent sarebbero quelli che si usano nelle teerie, nelle tisanerie, cioè quei menù a chevalier, oddio sto andando avanti, anzi addirittura indietro, quei menù a chevalier, a cavallo, che possono essere utili da mettere richiamando, magari con un bel QR code, ok, magari con un bel QR code, conoscete il QR code? Sì, quello che col telefonino unisce un po' offline e online, no? Quindi con un bel QR code che cosa fate? Andate a collegarli magari alla vostra pagina, mentre aspettano, oh ragazzi lo sapete quant'è la media del tempo che la gente sta a colazione? Quanto stanno mediamente un cliente a colazione? Quanto ore? Di più? Mezz'ora? Stanno tra i 25 e i 30 minuti. Cioè io ci ho provato, perché poi mi piace stare lì, io più di 20 minuti non ce la faccio, cioè anche perché che faccio? Mangio, mangiucchio, guardo, mi guardo intorno e poi anche no. Però stanno moltissimo tempo, quindi noi abbiamo un'esposizione lì con noi di queste persone che per 30 minuti stanno lì. Noi li possiamo comunque coinvolgere, gli possiamo dare del materiale, gli possiamo far fare delle cose, favorire nella foodtography. Dobbiamo creare, abbiamo un'occasione di utilizzare gli UGC, i contenuti fatti dagli utenti. Quindi dobbiamo sfruttarlo assolutamente. Come? Sia online che offline, lavorare sul colore. Il colore è entusiasmante, il colore sia ha un effetto psicologico, sia ha un effetto di descrizione, di racconto, quindi è molto importante. Ci deve essere corrispondenza tra i colori che poi l'utente trova da noi quando diventa cliente e quelli che noi abbiamo nella nostra comunicazione, nei nostri racconti e anche sul nostro sito. La teoria del colore è bellissima, è molto affascinante, molto spesso le teorie scientifiche sul colore sono state elaborate da pittori e da questo signore qua, Goethe, che ha ideato la ruota prismatica dei colori, scoprendo che la luce era estremamente influente, cioè un letterato che scopre delle cose sul colore, che si incuriosisce sul colore. Pensate quanto è importante il colore. Il colore è poi che dà emozioni, che scatena emozioni. Per esempio il colore rosso che nella ristorazione, comunque nel food, fa addirittura mangiare in maniera più famelica. Per questo è usato da fast food o comunque da chi ha bisogno di avere un'alta rotazione dei tavoli. Non è il nostro caso, noi vogliamo far vivere lenti in qualche maniera. Però il rosso è comunque un colore che è dominante nel racconto del food. Il rosso, come vedete, qua vi riporta, vedete lassù, se riesco a non fare danni, forse ci sono. Ecco, questa è la fettina che racconta i tipi di colore utilizzati nel mondo per raccontare il food. Quindi vedete che il rosso è comunque un colore prevalente, poi predomina il verde, poi l'azzurro soprattutto nei luoghi di mare o comunque nei prodotti ittici. A proposito di prodotti ittici, ecco alcuni consigli su come raccontare il food online. Come dicevamo prima, TLDR, non raccontiamo troppe cose, non dilunghiamoci, raccontiamo poche cose, cerchiamo di conquistarli e eventualmente di farli approfondire. Stessa cosa che abbiamo nella nostra disposizione del cibo. Se uno vuole fare un piccolo e semplice, non facciamogli perdere tempo o abbuffarsi troppo. Lui ha i suoi percorsi, se poi vuole aggiungere delle altre cose, avrà delle altre aree da poter visitare. Meglio non farlo girare tanto, oltre a una questione logistica e anche una questione economica. Cioè, alla fine, sceglie di più le cose a lui mirate. Quindi non prova ad assaggiare tutto, ma sceglie le cose che sono fatte su misura per lui. Nel racconto è importante creare, sia cartaceo, sia online, un racconto che abbia del white space, cioè dello spazio bianco, ma non nel senso di bianco, nello spazio di respiro del testo. Quindi sia scritto, anche nella cartellonistica, ci devono essere pochi elementi esposti con semplicità e con chiarezza. Quindi attenzione all'impaginazione, alla divisione con molta semplicità dei vari elementi. A proposito di comunicare online cercando di superare gli stereotipi, ero indecisa, ma poi Checco ha avuto insomma la meglio. Concedetemelo, ecco. Abbiamo raccolto alcune, proprio perché ci piace l'evento partecipato, non un evento appunto da piedistallo, oppure dalla cattedra, da un altare, eccetera. Abbiamo chiesto un po' di consigli in giro e vi rilasciamo intanto alcuni suggerimenti al volo e poi alla fine alcuni personaggi, amici, colleghi, hanno lasciato qualche messaggio per voi e poi li vediamo. Allora, qualche regola fondamentale. Sia offline, nel merchandising, nella disposizione, sia online o nella nostra comunicazione, occhio comunque al color branding, alla parte del colore del brand, che è la parte che convince, emoziona, mettendo in azione soprattutto la parte più antica, quindi più reattiva, più percettiva, più scimmiesca della nostra emozione. Ci fa sentire subito bene oppure no, a disagio. Utilizziamo complici appunto online, complici comunque il mobile, utilizziamo anche degli elementi semplici che possono raccontare tante cose, raccontare gli allergeni, raccontare i percorsi, salato, dolce, leggero, per celiaci, per vegetariani, per vegani, tipico. Quindi utilizziamo le icone, le icone ormai sono diventate una forma di linguaggio importante. Ma non solo, usiamo i visual, usiamo anche un racconto visuale. Sono maestri tutte le culture orientali nell'utilizzo del visual, quindi nell'utilizzo dell'immagine fotografica, del racconto attraverso l'immagine. E anche loro sono diventati molto più bravi, una volta forse erano un po' ridondanti, un po' kitsch, se vogliamo, adesso sono diventati molto bravi, unendo anche dei piccoli simboli grafici, qui vedete dei trattini, dei pallini, con dei piccoli segni grafici che sono il vostro stile visual, possiamo andare a raccontarci e raccontarci molto bene. E poi c'è la parte del merchandising, della visual description attraverso l'esposizione. Quindi possiamo raccontare tantissimo con l'esposizione. Ora, ovvio che non vi suggerisco di utilizzare un'immagine in stile Halloween nella vostra esposizione, ma curatela, è importante. Non è una perdita di tempo, è un modo per farli sentire bene. Tanto mangiano tutti come dei pazzi, lasciano della roba, abbandonano delle cose, sciupandole nei piatti, comunque, e soprattutto restano lì almeno mezz'ora, comunque. Cerchiamo di rendere quella mezz'ora il più affascinante, memorabile e efficace per il nostro branding. Quindi curare, ringrazio Cucina delle Foto, che è un gruppo di lavoro con cui lavoro friulano, c'era una friulana prima da qualche parte, se non mi ricordo male, e che cura con attenzione anche la parte dell'immagine fotografica della disposizione, che quindi aiuta anche a esporre e disporre le cose. Ti resta per il sito, ma poi è una cosa che ti è utile anche per ottimizzare l'esposizione di queste cose. Quando andate a raccontare poi la colazione, utilizzate dei piccoli escamotage, ora qua non si vede bene perché c'è troppa luce, però con un piccolo riquadro, con un piccolo box, ora qua, ripeto, vedete questa parte incorniciata ed è di un colore leggermente più intenso, purtroppo non si vede molto bene. Con quello consigliato della chef, appena pescato, appena raccolto, ecco la frutta appena, la marmellata che abbiamo appena realizzato, con questi piccoli trucchi si chiamano proprio cell copy, cioè quei pezzi di contenuto che ti fanno spaccare, che ti fanno vendere. E quindi sia online che poi lì, perché non fare un libretto che racconta la nostra colazione? Mi viene in mente, dopo ve lo faccio vedere, un collega che è un gastronomo famoso, un caro amico, che ha scritto un libro che si chiama In Nuce, che è dedicato alle colazioni, non d'albergo, però è dedicato alle colazioni. Perché non pensare a raccogliere dei racconti, delle immagini, pensare di fare un piccolo bouclé da omaggiare, visto che comunque la colazione è il pasto più importante per i nostri, molto probabilmente, per i nostri ospiti. Ed è anche magari l'ultima cosa che loro si ricordano, perché prima mangiano, poi escono e pagano. Quanto può essere utile fargli vivere una buona colazione, perché poi non rompano le scatole quando fanno check out, dicono, no ma questa cosa, ma no, ma quell'altra, ma io non pensavo che ci fosse questo supplemento. Se noi li abbiamo conquistati con del buon gusto, probabilmente tutti questi problemi vengono in qualche misura risolti. Quindi, presenta, presenta bene, presenta benissimo le portate, questo è un, si chiama Sweet World, ed è una realtà in provincia di Vicenza, loro sono bravissimi, raccontano molto bene la colazione attraverso il racconto visivo. Raccontiamolo magari anche come se fosse un e-commerce, con la lista delle nostre sfiziosità della colazione e poi una scheda che si apre che racconta meglio ogni singolo piatto. Poi, siate mobile friendly, anche instagrammabili, cioè, siate consapevoli che tanto vi faranno le foto a tutto, a tutti gli angoli, a tutti i momenti, a tutte le cose che voi fate, a tutte le cose che voi esponete. Quindi, rendete la colazione instagrammabile, cioè, memorabile, fotografabile, che così la condividono. Magari, con un piccolo menutente, avete il QR code e loro possono postare o comunque scriversi, comunque lavorare direttamente sulla pagina, lasciando l'immagine sulla vostra pagina Facebook e quindi vi aiutano. Ricordiamoci che l'aspetto visuale è fondamentale. Mentre un tempo noi avevamo la capacità di concentrarci che era pari a circa 12 secondi, pochi anni dopo, la stessa ricerca ci dice che la nostra capacità di attenzione e gli stimoli si è abbassata a 8 secondi, addirittura siamo peggio dei pesci rossi, ok? Quindi li dobbiamo conquistare con una immersione nella food experience che in qualche maniera veicolerà qualsiasi altra cosa. Loro sono così, sono sempre collegati, sono sempre connessi, stanno sempre scattando qualcosa e noi dobbiamo sfruttare, ho ancora qualche minuto, ok? Dobbiamo sfruttare ogni loro aiuto perché noi dobbiamo vedere i post che fanno, i tweet che fanno, le foto che fanno come dei doni. Sì, romperanno un po' le scatole perché tu gli porti una cosa oppure, insomma, sforni una cosa e loro prima ancora magari la fanno freddare perché devono fare lo scatto giusto, nel modo giusto, però chi se ne importa? Cioè, la cosa importante è che poi quella cosa lì gli sembri ancora più buona, più gustosa, non gli importa quanto costa e lo condividono con il mondo, quello ci deve importare in qualche maniera. Quindi fotografi sia, ricordiamoci che ci sono degli studi che ci testimoniano che viene tutto percepito più buono, più gustoso, più saporito, più piacevole se prima fanno uno scatto fotografico, quindi facciamoglielo fare. Ora, una rassegna di amiche, amici che ci hanno lasciato dei consigli sulla colazione. Gli ho chiesto a alcune persone che lavorano nelle hotellerie di fare un esperimento, lasciatemi qualche consiglio da portare a Lecce su cosa fare, su come migliorare. Allora a tutti ho chiesto, datemi un consiglio sulla colazione e soprattutto ho pensato questo, ma ci sarebbe qualcosa per la quale voi sareste disposti a pagare un supplemento colazione? Visto che il problema di tutti gli albergatori è, eh però, è una voce di costo, mi escono i soldi ma non mi rientrano. Ecco cosa si dice, Valentina, Valentina 4, portavoce in Italia di TripAdvisor, mi ha chiesto di specificare che sono i suoi consigli, quindi di Valentina, di persona che va in giro, che vive, mangia e fa colazione negli hotel. E lei ci dice, occhio, attenzione, se io devo fare un early check out, mi devo svegliare prima delle sette, devo partire prima delle sette che mi parte un volo, io resto magari, ma anche senza caffè, no, fate preparare qualcosina, preparate qualcosina tipo una colazione take away da portare via per questa cosa. Frutta fresca, espresso da bar, frullati, il bollitore in camera, è una cosa che, vi assicuro, anche non solo ai cinesi, ai giapponesi, agli orientali, ai nordici, fa piacere, anche a tutti noi, anche le persone, agli italiani, trovare un bollitore in camera, quanto poi vi fa anche risparmiare, magari con due biscottini, vi fa poi risparmiare anche sulla colazione, perché vi assicuro che vi romperanno meno le scatole, no, scusi, voglio un espresso, due spessi, mi porti un altro cappuccino, perché in qualche maniera ce la giochiamo così, è molto interessante, per cosa saresti disposto a pagare? Colazione in camera, questo sì, ed è molto bello, è una cosa che nessuno pensa, perché non organizzare una colazione a letto? Cioè, io me la sogno, lo dico sempre a mio compagno, ma sai qual è il sogno? Ci provo, qual è il sogno mio, che qualcuno mi porta il caffè a letto? Sì, ciao, vabbè, però, è una cosa che tutti sogniamo e che magari a volte non riesci a fare, perché non farlo ai nostri ospiti? Colazione in camera, snack da asporto, voglio portarvi a qualcosa, sono disposta anche a pagarla. Giulia Remita, di Trivago, la conoscete tutti, lei alla stessa domanda le risponde, intanto vi dà un consiglio, sperimentate, siate audaci, come dicevamo prima, fate, fatele, mia nonna diceva, fate l'uovo fuori dal cestino, pensate fuori dalla scatola, ecco, questo, a questo si riferisce, siate etici, è un invito che comunque è importante, perché più trasmettete valori, ecosostenibilità, e più vi assicuro che avrete dei riscontri, anche meno scelta, ma meglio raccontata, meglio disposta, quindi vedrete che addirittura arriverete a risparmiare sul costo della colazione, più prodotti territoriali, magari l'impiatto, questa la vedo un po' difficile, perché un impiatto, invece che il buffet, ti costa comunque un po' impersonale, che poi ti sei, però, per una struttura elegante, molto raffinata, molto charmant, potrebbe un boutique hotel, potrebbe essere un'idea, cosa sei disposta a pagare? No, non supplementi, è sincera, pagherò, pagherei solo per qualcosa di tipico, cucinato sul momento, anche questo è interessante, mixare con una specie di show cooking giornaliero, spadellando, sfornando qualcosa di fresco, addirittura, ci sono degli utenti, che sarebbero disposti a pagare, Massimo Borgia, che saluto, è il giornalista, che ha inventato, il festival del giornalismo alimentare, a cui ero, partecipavo ieri, in cui siamo partner, che veramente sta buttando un ponte tra giornalismo, blogger, è comunque veramente una persona speciale, che mi dice, varietà e qualità, sono le due coordinate che vi consiglio, il personale è formato e professionale, questo è un dramma in sala, anche nella ristorazione, frutta fresca, matura e di stagione, se vi assicuro che trovare della frutta, che sia ad un grado di maturazione, si va dal, dura come una roccia, che se la lanci contro questo muro, rimbalza, o scalfisce il muro, a marcio maturo, quasi deteriorato andante, quindi davvero, trovare il giusto grado, presentare la frutta, la frutta è un must have, per tutti i popoli, cosa saresti disposto a pagare? Niente, per niente, si deve competere con l'accoglienza di Airbnb, con l'estralberghiero, con altre cose, quindi dovete sfruttarla questa cosa. Valerio, Massimo Visintin, chi lo conosce? Il gastronomo mascherato, vai, gastronomo mascherato, che tra l'altro, ha fatto la prefazione del mio prossimo libro, che uscirà il 6 aprile, cosa ci dice questo gastronomo mascherato? Ci dice, qualità e preparazione dei prodotti, caffetteria, caffetteria da migliorare, perché comunque è importante, ve lo chiedono tutti, non voglio la macchinetta, tranne magari se sono tedeschi o americani, buffet salato, gli americani comunque li potete anche stupire con il caffè filtrato, con il caffè filtrato, come faceva la mia nonna sulla stufa, che faceva la napoletana, poi la girava, e il caffè filtrato aveva un altro sapore, la macchinetta, non è che gli americani sono stupidi, diciamocelo, e che bevono dei beberoni, e li accontentiamo così, non è acqua sporca, loro bevono caffè filtrato, l'ho assaggiato ieri, fatto dalla Costa d'Oro, è pazzesco, è una cosa diversa, ma si può proporre qualcosa di un po' originale, buffet, il salato è spesso dozzinale, ci sono più estimatori del salato di quanto noi ci possiamo immaginare, e quanto è buono il salato pugliese, cioè, il salato in Puglia è una roba da ribaltarsi, quindi proponiamolo, non voglio supplementi, non è utile, non è corretto, quindi anche lui, niente, intransigente, Leonardo Romanelli, critico, gastronomo, e lui che ha scritto in Nuce, ci dice, colazione puntata, creata intorno alla client experience, non fate robe con plastica, tetra, pacca, eccetera, eccetera, cercate di essere più naturali, e di farlo trasparire anche dal materiale, dall'utensileria che utilizzate, molto spesso veramente si vedono delle cose ignobili, sia al vetro, a un'esposizione invitante, caffè al tavolo, è proprio gradito, sei disposto a pagare? Sì, per piatti cucinati sul momento, anche lui come Giulia, personalizzati, bevande create su misura, occhio al beverage, soprattutto ai centrifugati, a questi prodotti che, che veramente possono raccontare la terra, anche un centrifugato può raccontare la terra con frutta e verdura di stagione, miscele di caffè, e ritorniamo anche qua, e sono disposto a pagare, Pietro Fruzzetti, fondatore di Cibiamoci Festival, ci dice, prima del check out, occhio, perché lì veramente li puoi conquistare, quello che vi dicevo prima, rendere indimenticabile, perché l'ultima cosa, come il dessert, quando noi ce ne andiamo, da una cena, prendiamo il dessert, con il licorino, o comunque con un accompagnamento di questo tipo, quindi occhio, angolo dedicato al breakfast internazionale, prodotto di qualità per i vegani, per i vegetariani, sei disposto a pagare? Sì, ma solo per piatti tipici, con prodotti unici, anche qua, di nuovo, ritorniamo su questo elemento, preparati sul momento, vi lascio anch'io con, occhio, espresso, caffetteria, da bar, no, erogatori, per il discorso che vi facevo prima, pensare al cliente business, al cliente pleasure, che deve svegliarsi molto presto, prima delle sette, qui, insomma, un po' di interesse, nel mio discorso c'è, spesso mi devo perdere, delle colazioni meravigliose, perché devo partire presto, supplemento no, sì sul servizio, per esempio il servizio in camera, creare un'offerta, un'idea, lancio questa provocazione, un'offerta anche per la colazione, per gli, allora, voi avete un hotel, c'è un sacco di carri, appartamenti, preparate anche, non so perché è sparito, preparate anche, quasi finito, preparate anche una colazione per gli esterni, si può fare, si può organizzare, o con un sale separato, oppure con un ingresso controllato, dei combos, che magari sono già pagati, oppure alla cart, quindi, questo potrebbe essere interessante, perché vi andate a coprire, e a beccare anche tutti quelli, che magari hanno dormito nell'albergo, scusate, nella cameretta, piuttosto che nell'appartamento. Ecco, qui, alcuni consigli ancora al volo, saluto Salentosteria, che è una struttura del territorio, della provincia di Lecce, per le quali abbiamo lavorato proprio su questo menu, e addirittura creando appunto un QR code, nel portaconto, perché abbiamo creato questo rapporto, questa relazione tra offline e online, ed è la chiave di volta per vincere, veramente. 10 comandamenti con un saluto ad Andrea Scalone, che è, insomma, mi commuovo io, che non sono di qua, e soprattutto ringrazio Antonio Strafella, che è un fotografo di Lecce, che vive a Roma, e che mi ha regalato questa fotografia, con alcuni consigli al volo. musica, cioè, voi direte, vabbè, chi se ne frega, noi vogliamo comunicarci, eccetera, eccetera, no, la musica è importantissima, io una volta a Catania, era febbraio, ho sentito la musica di Natale, no, non va bene, non ci siamo, mix tra morbidezza, ritmo, location, quindi territorio, luce naturale, occhio che ci fa svegliare, avere o queste lame di luce, abbiamo già le occhiaie appena svegliate, che ci ammazzano, ma non solo, anche per fare le foto, creiamogli quella luce naturale, adatta perché loro si facciano queste benedette foto, tanto le devono fare, quindi, less is more, lo dicevamo prima, white space, anche nel visual merchandising, non appiccichiamo la roba, piuttosto mettiamone meno, disposta meglio, che sembra di più, less is more, architetture dei contenuti, quindi organizzare le cose, come sul sito web, anche nella disposizione del desk, be digital, wifi dappertutto, lo so che in Puglia è un problema, non me lo dovete dire, è un grave problema, però la wifi gratuita, aperta per tutti, dovete arrampicarvi sui muri, ma dovete trovare il modo di dargliela a questi clienti, tanto se no vi romperanno le scatole per tutto il soggiorno, tradizione, l'angolo delle tipicità, cucina healthy, cioè ormai la cosa naturale, la cosa gluten free, non arrabbiamoci, se uno dice di essere celiaco, oppure di essere intollerante, non lo è, se vuole un certo tipo di prodotto, lo so che è più costoso, ma troviamo il modo di servirglielo, soprattutto chi è magari vegano, chi è vegetariano, cose di questo genere, cucina dei senza, la cucina dei senza è la tendenza del 2018, si usa, saremo un popolo destinato al sacrificio, non lo so, comunque cucina senza questo, cucina senza quell'altro, senza grassi, senza zucchero, senza quel, è una moda, ma lo dobbiamo cavalcarla, creare dei percorsi del gusto, ciascuno si immedesima, non prende tutto, prende solo quello che gli piace, e non ci lascia la roba nel piatto, così online, piatti sempre extra freschi, se volete fare qualcosa extra, che lo proponete fuori, magari potete provare, sperimentare dei percorsi, con un piccolo supplemento, ho finito il tempo, bene, mi raccomando, cercate di smettere di dire, noi siamo i migliori, la cucina italiana è la migliore del mondo, magari sì, ma non dovete dirlo voi, raccontate piuttosto la vostra unicità, quindi lavorate sull'identità, l'identità di marca, l'identità del territorio, la cosa che vi rende unici, e leggete magari dei libri, tipo quello che abbiamo scritto, io e Luca Bove, che sentirete tra due interventi, dopo c'è Irene, che saluto, con un bellissimo intervento, poi c'è Luca, quindi non dovete perderveli, e seguitemi sul blog, comunicazione nella ristorazione, dove parlo di food, ma non di solo food, e teniamoci in contatto, vi ringrazio, spero di non essere andato troppo lungo, grazie.